Con una foto di famiglia prima del divorzio si è aperto un vertice europeo dai temi scottanti, dalle condizioni del Brexit alle relazioni con la Russia, dalla crisi dei migranti all'accordo di libero mercato tra Europa e Canada, altrimenti detto CETA, tutto è sul tavolo al vertice di Bruxelles, che ha visto il ritorno di Theresa May, la premier britannica presente per la prima volta a un vertice europeo dopo il sì referendario all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Proprio Londra, insieme a Parigi e Berlino, spingeva per nuove sanzioni contro la Russia. I leader hanno sottolineato ogni sorta di attività russe, dalla violazione dello spazio aereo alle campagne di disinformazione, dalla pirateria informatica all'interferenza dei processi politici di paesi membri dell'Unione Europea e altro, strumenti ibridi nei Balcani, gli sviluppi dell'inchiesta sul volo MH17. Visti questi esempi, è chiaro che la Russia punta a indebolire l'Unione Europea, argomentava Donald Tusk, il presidente del Consiglio Europeo. Ma l'insistenza per punire i russi, anche per il loro intervento in Siria, non è bastata a smuovere le resistenze italiane, oltre che greche e cipriote, ed è stato poi il presidente dell'Europarlamento a prendere atto della situazione. Mi pare che non ci sia spazio per nuove sanzioni, perché servirebbe l'unanimità per questo, ma non c'è spazio nemmeno per togliere le sanzioni attuali, e lo trovo corretto perché finché l'accordo di Minsk non sarà implementato completamente, non dovremmo togliere le sanzioni. Stamattina il vertice prosegue sui temi commerciali. A partire dall'accordo Europa-Canada, il CETA ha l'accordo dei 28, ma in Belgio sono i valloni a bloccarlo. Il Parlamento della Vallonia è convocato in mattinata e potrebbe sbloccare la situazione. Sarà una mattinata molto tesa, in attesa di novità dell'ultimo minuto provenienti dalla Vallonia, e potrebbero arrivarne, secondo il corrispondente di Euronews. Stando ad alcune fonti, dice, gli stati membri sono pronti a dare nuove garanzie alla Vallonia in modo che la regione belga accetti l'accordo commerciale tra Europa e Canada. Il negoziato si svolge a livello di ambasciatori e se ci sarà un accordo, i capi di Stato e di Governo lo approveranno in giornata.